Qua ragazzi non ci sono i mech e quindi è facile i garli wix Ma proprio facile facile Non ci sono abbastanza stazze Tra quelli usati più scarsi e a rana il più basso Purtroppo anche i garli wix è bassissimo In questo meta Allora se io frizzo Tu non devo posso fare 2-1 Moneta Vendimentale Compro altri due pezzi Ma in realtà il correzione dei sedi usci non è così forte Non credo vada frizzato Il tracker 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 Ah e rimetteranno anche l'1-1 Pezzo bello secondo me Quindi ci sta che lo rimettano Ma qui saliamo E il prossimo turno Vediamo di fare una giocatina Un po' di Giocatina a tempo interessante Che probabilmente in realtà sarà semplice a comprare 2 Dopo aver comprato 2 Il top sarebbe trovare tipo un altro tour E se lo shop migliore è tipo Altro vendimentale Doppio drop a 2 forte E poi dopo tipo prendiamo vendimentale E livelliamo vendendolo Questa cosa sarà la migliore giocata Quello che ne viene quando vendi Sì ciao Alvis Esattamente Quello è il pezzo che torna Buona battaglia Allora Non è male sto shop Li faccio il segnino No siamo onesti ragazzi Siamo onesti Ok mi sono segnato un po' di cose da fare Prima di chiudere Stanotte Lobo mi ha fatto il segnato di livellare Noi non abbiamo livellato Non ha livellato neanche lui Secondo me sto shop ragazzi è buono Perché l'1-2 adesso Non è un brutto pezzo da comprare e vendere Con Gallywix Avendo il 2-3 Il 6-5 Qua secondo me Tutto bene Pronto per il twist Siamo pronti Siamo pronti Mancano alcune cosine da ultimare Ma il grosso è fatto Le gemme le terrei Prima di tutto ne avremo 8 gold E il top sarebbe trovare 3 pezzi forti vendendo la goccia Però insomma secondo me sto turno era È stato smart Cioè al fine l'1-2 con il 2-3 ha dato una gemma in più Quindi è un più 3 più 3 Poi il turno dopo ritorna l'oro Non è male Potrebbero anche tenere Si potrebbero anche tirare le gemme Però di sicuro una va tenuta Perché non abbiamo la certezza che turno dopo arrivi Il Insomma qualcosa che ci dia altre gemme E Magari esce il 2-5 che pompa le vite In quel caso È molto più forte dal dopo Comunque mancano alcune cose Dobbiamo ritirare delle stampe domani E Preparare le valigie Più qua Prenotare qualche tipo di parcheggio Cosa che qua manca Ma il grosso è fatto Dopo in realtà il grosso è fatto Cioè il viaggio Cioè il viaggio verso Parigi in macchina È abbastanza impegnativo Ecco qua Carmi Laus così Non è stato bello Perché ci siamo bacati una bella tassa Allora questo ci sta Capita a tutti ogni tanto Domanda Domanda Si prende la Naga 2-5 E il 4-4 Secondo me non è male Tipo 1-2 vendo 4-4-2-5 E altrimenti è 4-4-1-2 roll Il 4-4 è forte E va preso Se non è anche l'1-2 è forte Il problema è che turno dopo Se vendo 2 Mi sono gold Quindi in realtà qua Probabilmente prenderò l'1-4 Allora Gioco tempo così Buona battaglia Ok Gemma generata Eh sì Non andiamo in aereo ragazzi Perché dobbiamo portare la tavola Con Insomma Quella con i buchi Che si giocherà la fiera Impegnativa Ti piace di più Il Sharaj O il 5-3 Ma sapete che il Sharaj Non è male Non è male È un 4-5 Turno 6 Abbiamo il riforgiar scarti Per l'irsuto Quindi vuol dire Che i taunt Scommano sia con lui Che con lui E i taunt Non sono male Da prendere Turno dopo Insomma ragazzi C'è una cosa Che potevamo fare Era spedire tutto E poi dopo Prendere L'aereo Però comunque Il tabellone Lo dobbiamo ancora Domani dobbiamo incollare Due ultime cose Quindi non avremmo Fatto in tempo E poi essendo la lotta La prima fiera Avere tutto in macchina Ci fa stare più sicuri Cioè alla fine Abbiamo tutto dietro Se manca qualcosa Prendiamo la macchina Andiamo a comprarla Quindi insomma È un po' molesto Dare da qui a Parigi In macchina Siamo in 4 3 Guideremo Ci alterneremo Quindi insomma Secondo me È fattibile Parigi Nike Parigi L'unico problema Sono le proteste Madonna Come fa a essere così debole Questo Che è? L'unico problema Insomma sono le proteste Però al momento Dicono che non c'è Non è La situazione Non è così critica Infatti è acquittato Questo qui ragazzi Era tipo Era tipo un buy ambulante Allora 3-7 non è male Però ammazza il 2-3 Dai stai concentrato Sono concentrato Sei concentrato? Eh Non ti fa il fumo Qui non sei concentrato A partenza Non devi fare le stampe Non dovrei fare le stampe No Roll Le gambe Delle donne Ecco Dopo vengo a farvelo in diretta Vieni a dormire Vai Vieni state attenti È in forma oggi eh Oggi è in forma Oggi si sente un creator Non prenderei 1-2 Roll 2-4 Non è bellissimo 1-2-4 Perché alla fine L'unico scudo è lui Ok questa roba forte Quindi 2-2 Compro 3 Oh Interesting Dovevo metterli comunque dietro Ma ero sbagliato Ah vedi Lo sapevo Fareggio Allora devo posizionare meglio Ovviamente tipo così 5-2 Si prende Si Allora ragazzi Hai senso livellare in sto spot No Dot out Stiamo veramente al 4 Contro Milaos Mi sa che tocca Sono livello ora E Che si può anche fare Però Il fight l'ho vinto Per un miracolo Prima Facciamo veramente cagare Cosa prendiamo al 4 Oltre la tripla sua Dynamic 2 Town to the state Da dare su uno di questi Come si Come si Sotterriamo le ossa Perse dei ricordi Che l'ha fatto questo? Eh! Sharaj puzza! Sì, sì, mio babbo che si è messo a stampare, ragazzi. Questo è un buon trade, ragazzi. Questo è un trade molto buono. Anche questo è molto buono. Ottimo. Allora, adesso si può livellare. Anche se teoricamente bisognerebbe triplare, ma... Sì, siamo forti. Eh, come si posiziona qui? Di base dovrei triplare... Cosa salta, soprattutto... Cosa salta è come si... Allora, il 2-5 penso vada preso. La goccia va presa. Ho un roll. Roll, roll... Eh... Livello? 2-3 che potenzia? Cioè, cosa salta in sto spot? Duodinamico? Salta niente. Non salta niente. Tu non sto fermo, però perdo delle stats così. Eh... Siamo gridata. Siamo così. Quindi mi dovrebbero dare 6 gemme. Magari Sharaj attacca anche prima, eh. Niente, sì, vanno triplati assolutamente. Altrimenti salteranno probabilmente gli Sharaj. Comunque scalano abbastanza accoppiati così. Mi dispiace farli saltare. L'immagine è scissa. Merda, quindi questo si prende... No, ha tradato bene. Però a noi sta bene lo stesso. Cioè, questo è un turno di passaggio per... Per questo va bene. E' un turno di passaggio, però, che è debolissimo. Mentre noi abbiamo almeno stats. Bella, Guisi! Cioè, in realtà qui sono belli grossi. Gli gemme danno più 3, più 3. Più spray nulla. Roll. Bon Mario. Bon Mario ci sta. Roll. 3-3. Questo è un... Più 6, più 6. Tipo una tazza. Una tazza. Asciun stare. Non sposta. Roll. Un altro duo dinamico va preso? Sì. Oh no. È il pezzo più debole che ho, duo dinamico, in realtà. Scave più 1, più 1. Cioè, io qua se devo far saltare un pezzo mi sa che faccio saltare il duo dinamico. Mentre Magmaloc è molto più forte. Pendi 5-2. Per prendere il duo dinamico. Magmaloc lo vogliamo con Gallywix. Gli diamo Town. 2. 2. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il Disturbone. Attenzione! Stiamo facendo del ritmo qui. Servi davvero? Vuoi dire qualcosa? Un duetto molto formale. A me è piaciuta molto sta giocata, eh. Non so se ci stava. Magmaloc. E che scala abbastanza con Gallywix. Ecco, non so se... Il duo è solido. Cioè, mi fa triplare. Il 5-2 senza Baron non faccia scalare così tanto alla fine. Non lo so, non lo so. Allora, iniziamo a cercare la tripla di questi signori. Andare al 6. Ora no sense. Roll. 5-3. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. Buono. Brann. Gallywix. Brann. Brann si prende. Roll. Bongo. Bongo si prende. Saltano i riforni a scarti. Mi manca un gold per prendere Drakkari. È fortissimo però. Scomba pure col Magmaloc. Cazzo. Si frizza per forza. Dovrei far saltare Brann e Ki. Perché questo è forte con Drakkari. Il Sharaj. E niente, tocca frizzarlo lì. No, dai, è troppo forte. Lo so, sto a follia, ragazzi. Un bel po' di dolly. Vediamo se riesce a stare in testa alla classifica. Ma sono sbagliato qua. Non ci sta a fare sta cosa. Però ho in mente. E che Magmaloc triplato è grosso. Che bongo bongo mi piaceva. Scala già due turni in più di Sharaj. Forse dovevo far saltare entrambi gli Sharaj. Brann era buono. Forse dovevo tenermi anche il Brann. Però che avevo paura di essere troppo scarso. Dite che era meno triplato di Drakkari rispetto a Magmaloc. Oddio, magari sì. Forse era meglio. Che ragione voi. Perché era da tri... Sì. Ed era probabilmente da tenere anche Brann. Un 23 di vita. Adesso lo ritroviamo magari, eh. Il rumore l'ha fatto. Perché il friso ovviamente lo dovevo togliere. Le gambe delle donne. Perro? Dove ho Orgy. Il Midone è buono. Ora sì che si ragiona. No, salta lui. Prendo questo. Roll. Wow. Salta Orgy. Prendo un altro blu... Un altro duo. No. Roll. Roll. Prende due ore da far saltare. Il punto è che qua... Io so scalo un unbotto. Però voglio triplarmi ai Drakkari. Quello triplarmi ai Drakkari. Che dà un sacco di stazze. Le gambe delle donne. Le gambe delle donne. Ma di... Siamo fortissimi. Credi incredibile. Pum. Prendere a Tissa per dare le stazze in più sul Mirmidone. Eh, ci poteva stare. Ah, ragazzi. Qua... Che si fa? Che si fa saltare? Il piccolo Magmaloc. Niente. Fight finale. Teoricamente il piccolo Magmaloc. Oppure duo ai Drakkari. Possono saltare. Veramente duo salta. Venti 3 di vita. Buonasera. Bella Fabrizio. Puter. Io lo dico sempre. Fai le cose in grande o non farle affatto. Quanto sposta fare ste stazze? Non tantissimo. Secondo me un turno si può provare a rischiarselo. Cosa dite? Questo va qui. Mi triplo Drakkari. E poi torno dopo gioco tutto. Tanto c'è se devo vendere duo. Per fare Uther queste cose qua. Non so quanto valga la pena. Quanto questo mi dà... Eh, sì. Sarger a me è di Bongo. Sarger a me è di questo. È già 30-33 però. Qua me la sono stragridata. Ma sono comunque sopra. L'ho disrispettato totalmente l'avversario. È stato troppo facile sta partita. Ma non l'ho... Ha sculato l'11%. Quindi bene che abbiamo tenuto il 3-3 di Drakkari. Così adesso lo overscaliamo. È forte Baluarda. È questo. Per la giustizia. Servite a bere. Sono troppo forte. Le gambe delle donne. Sono più grosso io di stazio. Io giochiamo solo di essere più grandi dell'op e basta. Io lo dico sempre. Fai le cose in grande. Non farle affatto. I venti. Mi guida. Per me se i Zos fanno una roba così è difficile che l'op ci batta. Scaliamo infinito. Ha quittato. Ah! Ha quittato. GG. GG. Ci accompagna questo rumore di stampa. Io uber gridi ragazzi. Però con Drakkari triplato. Sì, che figo. Guarda lì. Guarda lì come scalano. Che belli. Bello ste build manageri comunque. Si possono ancora fare. Beh. Può sì. E' il primo posto. Ciao YouTube. Vedi stiamo facendo un sacco di win. Così anche se sono via al TwitchCon fino al 12. Via riesco a fare compagnia tutti i pranzi fino al 12. Un 82 che è diventato un 172 in un turno. Eh sì. L'unica cosa che quasi non aveva fare era trippare Drakkari prima. Perché effettivamente erano più stats nell'immediato. Però insomma ragazzi. Galiwix. Anche se su Airstone Play è tipo basso di tier. Secondo me è perché quando giociano i mech non va preso. Cioè quando giociano i mech Galiwix è ingiocabile. Senza i mech invece. Secondo me ci sta giocarlo. Cioè in senso. Pigliatelo. Arriviamo agli 11k perché non l'hai mai sentito dalla live. Bella Roger. Eh sì. Speriamo Dragon. 11k prima di partire.